Sindaco, com'è la situazione? La situazione è critica, pensare di lasciare senza acqua potabile circa 4.000 famiglie, questo è il numero degli abitanti della frazione di Castelnuovo, e tante aziende, con una delle più importanti aziende alimentari d'Abruzzo, che deve produrre e garantire una produzione costante. Sono tanti disservizi, tante criticità, ovviamente tante telefonate e una richiesta di informazioni rispetto a un tema che non passa in sordina in questi ultimi tempi. Il tema dell'acqua è molto attenzionato, è vero che questo non rientra tra quelle criticità di qualche tempo fa, è un fatto che sembra essere dovuto a una commistione di acqua di irrigazione con acqua potabile, ma sicuramente è complicata. Come amministrazione comunale, insieme a Ruggio, insieme alla ASL, stiamo cercando di monitorare. L'ultima telefonata questa mattina, pare che dalla ASL, pare che la situazione sia in netto miglioramento, soprattutto per Castelnuovo, abbiamo le scuole chiuse. Fino a domani si consiglia di tenere anche i rubinetti aperti, fare scorrere l'acqua? Sì, perché nel mentre Ruggio ha fatto tutta la disinfezione, sanificazione delle condotte, e sì, sono stati invitati, abbiamo invitato i cittadini a tenere aperte l'acqua a scarico dalle ore di 23.30 di questa notte per garantire il deflusso affinché le condotte siano pulite. Successivamente aspettiamo queste analisi e se non ci sono problemi, nella giornata di venerdì domani si dovrebbe rientrare nella normalità, altrimenti vediamo. In normalità non è normale che un privato possa fare questi danni? No, non è una cosa normale, i fatti saranno accertati, vedremo se è errore umano o se c'è qualcos'altro. Mi auguro che sia stato solo un errore e che soprattutto i risultati diano in qualche modo un fenomeno che non si è allargato, è un fenomeno non preoccupante, però per questo dobbiamo attendere.